E' tornato ad Alcamo dopo un anno di stop e ancora una volta in versione invernale, in versione natalizia, il Summertime Blues Festival, l'importante evento musicale internazionale dedicato al genere blues organizzato dal Brass Group, il cui presidente e direttore artistico Francesco Campo tiene a dire scherzando, qui è come se l'estate si fosse allungata, ecco perché continuiamo a chiamarlo Summertime Blues Festival. Le immagini che stiamo guardando e la musica che adesso ascolteremo meglio sono quelle relative al concerto di Slam Ellen Band, svoltosi nella seconda serata, quella di sabato 19 dicembre, e stasera, domenica 20 dicembre, alle 21 in matrice, il concerto Gospel, The Perfect Harmony and the Voices of Victory. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.